Il blitz è avvenuto all'alba in un albergo di Tripoli. Un gruppo di uomini armati ha rapito il primo ministro libico Ali Zeidan. La conferma arriva dallo stesso governo dopo che Sky News Arabia e Dalla Arabia avevano per prime diffuso la notizia. L'inviato della CNN a Tripoli riferendo del rapimento ha dichiarato di aver incontrato ieri sera il premier libico. Stava bene e non era affatto preoccupato ha detto. L'incontro è avvenuto nello stesso albergo dove appena qualche ora dopo Zeidan è stato rapito. Storico oppositore di Gheddafi Ali Zeidan era rientrato in Libia dopo 30 anni di esilio. Eletto da un anno alla guida del governo è stato ambasciatore in India negli anni 80 e poi si è allontanato dal regime ed ha vissuto per anni in Germania. È stato eletto primo ministro con 93 voti contro 85 a conferma della profonda spaccatura nel Parlamento libico. Il paese all'indomani della sua elezione era una polveriera ed il rapimento conferma il persistente caos politico. Sabato scorso proprio nella capitale libica il blitz americano che ha portato alla cattura del pezzo grosso di Al-Qaeda Abu Anas al-Libi, ritenuto dagli USA la mente degli attentati alle ambasciate americane in Tanzania e Kenya del 98 in cui persero la vita oltre 200 persone. L'azione americana aveva scatenato la reazione di gruppi estremisti secondo i quali il rapimento era una violazione della sovranità libica. Il blitz non comprometterà le relazioni con gli USA, aveva dichiarato Ali Zeidan, chiedendo comunque che il processo ad Al-Libi avvenisse in patria.